... Venerdì 29 gennaio, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17. C'è occhio ai giornali, commento ai giornali del giorno, alle pagine che abbiamo selezionato per voi in questa mattinata, in questa mattinata che inizia come sempre con uno sguardo al calendario. Vediamo se oggi possiamo fare gli auguri a qualcuno, a San Costanzo di Perugia, allora a quelli che si chiamano Costanzo o anche Costanza, va bene lo stesso. 7.31 l'alba, 17.16 il tramonto. Uno sguardo al tempo perché il tempo in questi giorni da qui a domenica cambierà, abbiamo la pioggia da oggi dal pomeriggio con il limite delle piccate intorno ai 1500 metri, domani ancora pioggia soprattutto dal tardo pomeriggio sera e poi i venti ancora di burrasche e tempesta lungo il crinale, poi domenica invece il tempo tenderà a portare neve sui 1000 metri sui monti del centro nord, mentre 1200 intorno ai 1200 sui monti del centro sud delle marche. Per il resto ci si aspettava qualche cosa anche sulla collina costa, ma in realtà poi le previsioni sono cambiate. Allora instabilità anche per la giornata di lunedì con deciso miglioramento da martedì. Non ci sono buone notizie sul fronte della pandemia, soprattutto per la regione Marche. Perché? Perché come vedremo tra poco dal Corriere Adriatico, pare che la nostra regione, la regione Marche, dovrà restare arancione ancora per altri sette giorni, quindi fino a 5, 6, 7 febbraio insomma. Ecco, quindi un'altra settimana arancione. Oggi è venerdì, quindi oggi sapremo esattamente se questa anticipazione verrà confermata e quindi resteremo gialli, quindi con tutti i problemi, soprattutto di tipo economico, che ne conseguono. Oppure, come chiede il governatore, insomma torneremo gialli. Non lo so, probabilmente ha ragione il Corriere Adriatico, con il quale apriamo la nostra rassegna stampa. Edizione di Pesero. Ma arancioni perché? Questa è la domanda che si pone il giornale questa mattina. Oggi il verdetto del governo, le Marche torneranno gialle, solo tra una settimana. Acquaroli, dice l'Emilia, ha dati peggiori dei nostri. Se la promuovono vado subito al TAR, al Tribunale Amministrativo. Allora, rispettati i parametri, scrive Lorenzo Sconocchini qui di spalla sul Corriere, in prima pagina, marchigiani presi in giro. L'indice RT, che misura la capacità dell'epidemia di espandersi, ondeggia nelle marche al di sotto della soglia di sicurezza, ormai da due mesi, dopo l'ultimo sforamento a 1,17 del 20 novembre, prima che il Ministero introducesse nuovi criteri, sarebbe bastato per starsene tranquilli in zona gialla. Adesso però pesano di più anche altri parametri, ma anche qui i segnali erano incoraggianti. L'incidenza dei nuovi contagi sono in calo da due settimane, i focolai che divampano con minor frequenza di prima, la pressione sugli ospedali sopra le soglie critiche, ma di poco, con i posti letto occupati per Covid scesi in una settimana, dal 38 al 31% in terapia intensiva e dal 50 al 46% in area medica. Insomma, ce n'era abbastanza da aspettarsi un'altra valutazione a rischio moderato dalla cabina di regia, che oggi attribuirà i colori alle regioni. E c'erano tutte le premesse, secondo i criteri illustrati, appunto, dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, per attendersi un rientro delle Marche in fascia gialla dopo due settimane in arancione. Tanto più che il Governatore Acquaroli aveva messo sul piatto della bilancia anche la volontà di rafforzare la zona gialla, con altre restrizioni nel fine settimana. Invece sembra che dovremmo restare un'altra settimana senza prendere un caffè al bar, andare al pranzo al ristorante, spostarsi dal proprio comune se non per necessità. A differenza di altre regioni, che potrebbero uscire più in fretta dall'arancione. Evidentemente non bastano ancora. Attenzione però che la pazienza, scrive il giornale questa mattina, la pazienza ha un limite e la disperazione pure. E nuovi sacrifici con questi numeri sono più difficili da capire e soprattutto da accettare. Scrive Lorenzo Sconocchini sul giornale, rappresentando quello che è sicuramente il pensiero anche di molti cittadini. Cari telespettatori, è un anno che stiamo così, a parte quella piccola parentesi estiva, ma è un anno ormai che siamo in queste condizioni, con queste mascherine, con queste restrizioni e quant'altro. E quindi questa è un po' la situazione. La pazienza sta finendo, però c'è anche da dire un fatto, e lo raccontavo al nostro caro regista poco prima di andare in onda. Cioè, il problema è che ci sono persone che vivono nella luna, ci sono persone che ancora non hanno capito che siamo in una situazione emergenziale, che viviamo in una situazione di pandemia. L'altro giorno, qualche due giorni fa, sono andato in un piccolo bar, che è anche tabaccheria di Fano, e dovendo attendere per fare una commissione, c'erano nell'ordine un uomo, che è stato cinque minuti, ma sarà stato lì anche di più, a parlare al telefono ad alta voce, senza mascherina. Un'altra persona, una ragazza, ferma al bar, seduta al bar, senza consumare né bere né mangiare, che parlava tranquillamente senza mascherina, e nessuno che ha detto, io ho sbagliato, avrei dovuto chiamare immediatamente le forze dell'ordine, poi però andavo di corsa e quindi ho lasciato perdere. Io ho sbagliato, però se noi siamo arancioni, non domandiamoci perché siamo arancioni, la risposta potete darvela da sola e fa rima con arancioni. Allora, andiamo a vedere il Carlino, Marche in Bilico, questo è l'altro titolo, vogliamo il giallo? Ok, vogliamo il giallo, tutti vogliamo il giallo, tutti vogliamo uscire da questa situazione, tutti siamo ormai al limite della sopportazione, però il virus, torno a ripetere, fa il suo mestiere, il virus fa il virus. Dati in miglioramento, ma ci sono ancora criticità negli ospedali, la Regione insiste per la gialla rinforzata, mentre a centro pagina, studenti in fila per i tamponi. Test per 1.198 ragazzi all'esordio, un positivo tra i professori. Caso vaccini, sempre dalla prima del Carlino, probabile stop alla seconda dose per gli imbucati, e poi le altre notizie, la sentenza per tacchi, appalto alla moglie, assoluzione per l'ex dirigente, poi l'assessore regionale, derby della cultura, latini nel comitato pro Ascoli. Sotto invece stroncato da un malore, pochi metri da casa, a Pantano, a Pesaro, mentre storie di solidarietà, sempre dalla città pesarese, mendicante morto, la vedova incinta, scatta dunque la colletta. Ma c'è anche la cronaca da Fano, con la morte, la tragedia che si è consumata ieri in Viale Gramsci, attraversa sulle strisce pedonali, un'auto lo travolge, morto, era reduce da un altro incidente. Vediamo la pagina interna del Corriere Adriatico. Siamo in zona gialla, invece no, ma se promuovono le miglia, stavolta faccio ricorso al Tar, l'amarezza di Acquaroli, che dice, inspiegabile, migliorati su tutto, RT arrivato a 0,88. La regione di Bonaccini, quindi l'Emilia Romagna, aveva dati peggiori dei nostri, pronto a dare battaglia. Oggi il Ministro Speranza chiarirà se le marche sono riuscite ad ottenere il passe per tornare in zona gialla, oppure, come purtroppo sembra certo, resteranno in arancione un'altra settimana, cioè fino a domenica 7 febbraio. L'incubo per le attività, un incubo per le attività economiche, costretta a chiudere i battenti, a giocarsi sul futuro, sperando solo nell'asporto o nelle consegne e nelle conseglie a domicilio. Acquaroli è lapidario, una situazione inspiegabile, ma per quanto ho potuto capire, nelle ultime ore temo che la regione dovrà subire un'altra settimana di restrizioni. E se dice così, state certi che, a meno di un miracolo, saremo arancioni. Nelle Marche i contagi sono sostanzialmente sotto controllo con i tamponi che vengono effettuati ogni giorno e lo screening di massa che ci ha consentito anche di rilevare migliaia di positivi e asintomatici, e dunque dice ci meritiamo la zona gialla da subito. Il Governatore, nelle scorse ore, ha inviato, lo abbiamo detto anche ieri, ha inviato un dossier al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità per descrivere nel dettaglio l'andamento della pandemia in regione che sull'economia ha effetti devastanti. Ora, tutto questo naturalmente si spera che non dipenda poi tra l'altro da errori, perché noi diciamo e sosteniamo che il virus fa il suo mestiere, ma ci vorrebbe che anche come dire, gli esperti facessero il loro e chi deve governarci idem, perché se poi sbagliano sulla pelle della gente, della povera gente che vorrebbe lavorare, è chiaro che la questione diventa diversa dal mero rispetto delle regole da parte di ciascuno di noi. I numeri sono a posto ancora dal Corriere Adriatico, restare altri giorni così è una prova troppo dura, lo dice l'assessore alla salute, alla sanità della Regione Marche, Salta Martini. Sui vaccini dice consegne ferme da lunedì. Dunque, sotto il perfilo dell'emergenza sanitaria abbiamo i numeri che ci confermano che il virus al momento sia sotto controllo. L'RT di questa settimana è sceso a 0,88, dice Salta Martini, le terapie intensive non sono più ingolfate, solo l'area medica deve ancora migliorare. E lo stress dei marchigiani per una probabile terza settimana in arancione? Risponde Salta Martini, ieri mattina ho avuto modo di parlare con imprenditori e gestori di locali prima di arrivare in Regione. Sono ormai allo stremo, ribadiamo, sono ormai allo stremo. L'esasperazione è palpabile anche perché i ristori, cioè i soldi da parte del governo non arrivano e credo che alla fine di queste chiusure, queste chiusure forzate, saranno in tanti a non riaprire più le attività. Ieri abbiamo dato un dato molto preciso, non ricordo se un barista o un ristoratore diceva abbiamo 18 giorni dopodiché siamo spacciati. una situazione oggettivamente insostenibile qui si scherza con il fuoco e poi si parla di vaccini eccetera eccetera. Ok, comunque sempre per avvalorare un po' di più ancora questa tese, sempre dal Corriere Adriatico guardate che cosa scrive che cosa c'è a pagina 16 a pagina 16 il conte Nani Marcucci Pinoli che è titolare di sei alberghi tra Pesaro e Urbino tra cui anche l'Alexandre il Vittorio e il Savoi a un certo punto racconta al giornale di aver ricevuto in questi giorni strane offerte per la vendita dei suoi alberghi lui chiaramente ha fiutato tutto cioè ha fiutato e ha detto di no ha detto di no su tutto e da un'indagine del Sole 24 Ore Hotel e Bar della Riviera Romagnola sono stati contattati da veri e propri squali della crisi economica che con offerte in ribasso propongono l'acquisto di beni immobili e di licenze ma pare siano arrivati anche a Pesaro così come ha scritto appunto Pinoli sul suo profilo Facebook lui ha sei hotel come abbiamo detto e dice questa cosa qua sentite avessi detto sì a questi squali al telefono sarebbe partita l'alta lena delle proposte a ribasso c'è gente in ginocchio ristoratori e albergatori che non vedono un futuro che non riescono a contenere le spese di attività che hanno entrato al 50% anche meno purtroppo ecco qui e io lo sottolineerei in rosso fate attenzione purtroppo dice Pinoli siamo all'alba di una rivoluzione sociale se anche i nostri politici a Roma continuano a litigare per le poltrone perdendo di vista l'emergenza di un paese i miei dipendenti mi chiedono ogni giorno se riusciremo a tenere duro ma ogni giorno di più non so che cosa rispondergli sui vaccini il Carlino stop alla seconda dose per quelli che vengono definiti imbucati imbucati furbeti chiamiamoli insomma come quelli che se immaginiamo il Titanic ci immaginassimo sul Titanic sono quelli che chiudono a chiave la gente nelle cabine per prendersi la scialuppa di salvataggio e fuggire prima degli altri insomma un po' questa gente qua chi non aveva diritto al siero in questa fase adesso rischia di non poter fare il bis intanto l'ordine dei medici scrive anche alla regione e il direttore dell'area vasta uno Magnoni dice a me non risultano in regolarità ma non posso controllare nome per nome quasi 1200 studenti invece hanno fatto il tampone per ora l'unico positivo spunta tra i professori lo ricorderete insomma Pesaro da ieri ha iniziato a fare i tamponi di massa contro quella che era il parere della regione insomma ha voluto fare un po' di testa sua non ufficializzati i numeri dei contagi ma il livello è per fortuna basso l'adesione tra i ragazzi e il personale si attesta sul 63% oggi dalle 8.30 alle 13.30 sarà la volta di altri test per il Santa Marte il Bramante Genga il Liceo Mamiani e il professionale Benelli è morto il padre del sindaco di Fano Massimo Seri una complicanza post-covid fortunato Seri 83 anni ospite della Don Tonucci era rimasto infettato nel focolaio uno dopo l'altro gli impegni istituzionali e pubblici della giunta fanese consiglio comunale compreso ieri sono stati cancellati e rinviati a data da destinarsi nel breve volgere di pochi minuti un tacito segnale che qualcosa di grave era appena accaduto ieri intorno alle 17 espirato a 83 anni fortunato Seri il padre del sindaco il quale è stato raggiunto dalla notizia mentre si trovava al lavoro nel municipio di Fano scrive il Corriere Adriatico fortunato Seri era ricoverato da qualche tempo nell'ospedale San Salvatore a Pesero a causa del covid-19 che aveva contratto nel focolaio che si è sviluppato di recente nella residenza sanitaria Don Tonucci di cui era ospite era stato ricoverato in terapia intensiva ma ne era uscito grazie a una forte tempra che a suo tempo tra le difficoltà che gli erano accorse gli aveva consentito anche di recuperare un colpo di fulmine poi purtroppo sono sopraggiunte delle complicanze renali e fortunato Seri che abitava nel quartiere di Gimarra insieme alla famiglia è deceduto lascia la moglie Amelia Iacucci il figlio Massimo la figlia Cinzia e i nipoti scrive il giornale poi c'è stata un'altra notizia invece drammatica ieri nel corso del pomeriggio un incidente un brutto incidente stradale a Fano in Viale Gramsci un uomo rimasto coinvolto un 74enne che è stato travolto sulle strisce pedonali poi è stato trascinato per 20 metri è successo intorno alle 18.15 nell'intersezione con Via Garibaldi ne ha fatto le spese un uomo di 74 anni che appunto è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali l'urto è stato particolarmente violento a provocarlo è stato un furgone un Mercedes da 9 posti usato da una cooperativa locale per il trasporto di ragazzi stranieri lo stesso autista un giovane di 35 anni pur risiedendo a Fano e di origini stranieri l'infortunato invece è originario di Bergamo ma residente a Fano di questo purtroppo incidente ne parla anche a pagina 17 il resto del Carlino il titolo lo vedete anziano travolto in Viale Gramsci alla fine non ce l'ha fatta il 74enne di Bergamo nel settembre scorso era già stato investito ma si era riuscito era riuscito a riprendersi si chiama Leonardo Giliberti domiciliato da qualche tempo a Fano dove risiede appunto la figlia Calcinelli invece a Colli al Metauro ieri ha dato l'ultimo saluto al suo parroco Don Peppe Don Giuseppe a celebrare i funerali il Vescovo Trasarti uno speciale ed immenso debito di fraterna riconoscenza davvero è stato una bella cerimonia un bel un bel funerale anche se pare strano dire che un funerale sia bello ma è stato davvero toccante quello che abbiamo poi trasmesso ieri in diretta tante persone ci hanno poi telefonato ringraziato anche per dire insomma grazie per questa opportunità anche di essere vicini in un momento così difficile e dove dobbiamo stare così lontani numerosi fedeli hanno seguito la Messa in parte anche dall'interno del luogo di culto nei confronti di Don Peppe sono state espresse davvero parole molto molto belle il racconto la notizia la troverete sul Carlino questa mattina la firma di Sandro Franceschetti numerosi fedeli che hanno seguito la funzione ora nell'abbraccio misericordioso del signore parte la maxi iniziativa invece per sostenere le attività l'assessore al turismo e agli eventi Etienne Lucarelli dice lanciamo il messaggio di continuare a comprare prodotti fanesi e a supportare i nostri imprenditori questa è un'altra cosa interessante un'altra cosa da fare laddove è possibile anche noi cerchiamo nel nostro piccolo non pensiate che non serva a niente ma se dobbiamo comprare qualcosa e sappiamo che magari c'è qualcuno che nel nostro territorio la produce quella cosa compriamola qui evitiamo Amazon evitiamo tutte queste robe su internet in questo momento aiutiamo i nostri imprenditori aiutiamo i nostri commercianti andiamo sulla pagina adesso del sempre del resto del cardino pagina 16 la cronaca maltrettamenti agli anziani qui c'è un processo un anno e otto mesi alla OS all'operatrice sanitaria condanna per la 63enne a segnalarla erano stati altri colleghi poi sono scattate le indagini questa donna era stata sospesa dal servizio e allontanata dalla struttura si tratta di una 63enne che nel maggio scorso era stata indagata assieme ad una collega più giovane per i maltrattamenti nella residenza protetta Cante di Montevecchio di Fano controllore sempre per quanto riguarda notizie che arrivano dal tribunale di Pesaro quindi processi che si svolgono lì dentro controllore picchiato sull'autobus per Calcinelli condannati due passeggeri l'uomo nell'aggressione aveva riportato un graffio al volto e la rottura degli occhiali allertati i carabinieri che hanno aspettato il mezzo alla fermata di Cartoceto picchia la moglie con un bastone lei scappa e si rifugia in caserma parliamo di soprusi e vessazioni che si ripetevano da tempo la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri l'uomo è stato arrestato riempita di botte con un bastone di legno il cellulare strappato dalle mani per evitare che potesse chiedere aiuto la moglie una donna di 52enne del sud-est asiatico ha trovato però il coraggio di presentarsi alla caserma dei carabinieri in piena notte per raccontare praticamente quello che stava subendo perché quell'episodio era stato solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie di violenze umiliazioni privazioni nel corso degli anni lui invece questo presunto orcolo dobbiamo dire perché dobbiamo dirlo ma comunque 54 anni a volte in preda all'alcol inveiva contro la moglie molto spesso e poi sempre dai quotidiani Malore qui siamo ancora sul Carlino Malore a pochi metri da casa muore Tonino Bastianoni 76 anni era una figura molto nota in un quartiere di Pesaro a Pantano e inviadandolo dove lui abitava la tragedia è successa ieri mattina davanti ai passanti questa è la foto appunto di Bastianoni a scuola rifiutò la classe ghetto disabili imparò a leggere e a scrivere praticamente da solo e poi c'è un'altra storia che arriva da Pesaro una storia triste ma nello stesso tempo che apre il cuore parte una colletta per un uomo di nome Favor che faceva il mendicante un mendicante però amato non di quelli che ti stanno dietro ad importunarti è un mendicante gentile amato dalla gente deceduto nei giorni scorsi la moglie di questo mendicante è incinta aspetta un figlio e dunque adesso scatta la solidarietà da parte di tante persone di Pesaro che dopo questa morte la morte di quest'uomo vogliono aiutare adesso la famiglia parliamo adesso di Confindustria invece torniamo sul Corriere Adriatico perché su Confindustria siamo ormai alla rottura totale al divorzio tra Ancona e Pesaro siamo ai saluti ma Papalini sta già parlando con Macerata oggi le due assemblee si riuniscono in videoriunione una videoriunione ovviamente neanche a dirlo separata per svuotare Marche Nord gli scenari il capoluogo guarda sud e se le territoriali sole facessero il colpo di scena vedremo nelle prossime ore intanto da Fano ancora tariffe comunali nessun aumento riduzioni per le famiglie numerose l'assessore Cucchiarini sottolinea che nel 2021 non verrà applicato neppure l'incremento Istat e poi da Vallefoglia buoni spesa via le consegne stanziati oltre 200 mila euro confermate per domenica le due sedi Ucchielli fondo ulteriore dal comune a Urbino alla città non serve un piano B Lino Mechelli lago della bilancia politica ducale su turismo e università potenzialità per un futuro ricco ma mi vorrei soffermare un attimo guardate questa fotografia è una foto che tra l'altro sta facendo un po' il giro del web è diventata così virale un'auto che è stata parcheggiata davanti al Duomo di Urbino e che cosa ha scritto la signora che non ha trovato parcheggio diversamente sono dalla pedicure molto semplicemente però va apprezzato al di là del parcheggio fatto un po' così va apprezzata la sincerità poteva dire sono dal medico e quindi dire una bugia invece sono dalle pedicure e quindi è così e vabbè lavori alle fogne sempre da Urbino con nuovi metodi Marche Multiservizi sta facendo interventi utilizzando una tecnologia tra l'altro poco invasiva e rapida questi sono gli operai al lavoro in zona Pian Severo e anche nel centro storico la particolarità appunto sono questi questi nuovi metodi che insomma attirano anche la curiosità dei passanti in vasi da Colli al Metauro la mancata pulizia provoca la carenza idrica Bellucci individua il problema del finanziamento per rimuovere i depositi di materiale poi da Mondolfo Aset ora risana l'acquedotto seguirà l'asfaltatura stradale Senigallia il problema che hanno Senigallia al pronto soccorso di carenza di personale due medici straordinari al 118 rinforzi per il pronto soccorso il prefetto ha interessato l'Asur per la carenza di personale Salta Martini dice troveremo una soluzione rapida e poi ancora sempre da Senigallia ma questa volta dal Carlino pronto soccorso al limite in campo il prefetto da punto chiede all'Asur di provvedere a risolvere i problemi di organico dopo la lettera dei medici fratelli d'Italia replica alle accuse del Partito Democratico poi Cater e Giamborì si pensa a nuovi format verso l'estate alla luce della pandemia allo studio novità per garantire la presenza dei due festival sulla spiaggia di Velluto abbiamo tempo per qualche pagina sportiva di Donato cambierà una vis da ritrovare un altro modulo contro il Modena per far quadrare le cose in difese poi il Fano che non parte battuto Capitan Carpani e la sfida di domenica nella tana di una big del campionato come il Padova nelle condizioni di classifica in cui siamo dicono dice non possiamo permetterci i calcoli servono soltanto punti e con questa notizia e con questa pagina chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per la vostra attenzione vi ricordo l'informazione questa sera alle 20 e 30 con Occhio alla Notizia e il Telegiornale arrivederci grazie per la visione